Ho guardato questa comica su Netflix, lei si chiama Tiffany Haddish e ha fatto anche qualche film, insomma è molto famosa Si stava riferendo, stava parlando di un altro comico e ha detto Prima di tutto sta omettendo il verbo perché comunque si capisce la frase Quindi you are the goat, you are the greatest, ok? Quel are l'ho messo, l'ha tolto Ma che cosa vuol dire goat, ok? Goat come parola in sé vuol dire capra Ma in quel caso lì goat è un acronimo, ok? Greatest of all time Greatest of all time, il più grande di tutti i tempi Quindi si riferiva a quell'altro comico che si chiama Dave Chappelle e gli ha detto You the greatest, you the goat, tu sei il più grande di tutti, sei il migliore You the greatest, you the goat, you the goat, meh!